carlo rovelli minacciato di morte per le sue idee sulla guerra in ucraina sì io la notizia la leggo ora e tale notizia ve la metto con con il link nel riassunto di questo video carlo rovelli grande fisico di fama internazionale autore di opere prestigiose pubblicate in italia dalla casa editrice ad adelfi e poi tradotto in tutto il mondo si carlo rovelli carlo rovelli insomma è una voce fuori fuori dal coro relativamente alla guerra in ucraina ci ce ne sono tante per fortuna è di voci fuori dal coro possiamo ricordare la voce del professore alessandro rossini docente alla luis la grande università privata di roma la luis è l'equivalente della buconia milano e se non che una voce fuori dal coro e anche quella di serafino massoni eccolo qua serafino massoni è per chi non conosce serafino massoni e qua ci sono tutte le informazioni su serafino massoni vedete serafino massoni è stato professore di filosofia e storia nei licei classici scientifici poi serafino massoni ha superato un pubblico concorso nazionale ed è diventato preside di ruolo sempre nei licei classici scientifici serafino massoni ha scritto tanti 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 libri tanti tanti libri serafino massoni opera anche sul web dal lontanissimo 2007 serafino massoni sta c'ha un bel canale su youtube è un bel canale con circa 15.000 iscritti 12 12 12 mila video dicessi 12 mila video e circa 10 milioni di visualizzazioni poi serafino massoni opera anche su daily motion su instagram su facebook su twitter su twitter e serafino massoni è già da dall'anno 2014 che parla dell'ucraina del donbass della crimea perché la guerra in ucraina l'operazione speciale in ucraina non è iniziata proprio il 24 febbraio 2022 no è nel 2014 che è iniziata la questione no perché a partire dal 2014 è il governo di kiev il governo dell'ucraina e ha cominciato a maltrattare a maltrattare e gli abitanti del donbass e della crimea perché gli abitanti del donbass e della crimea sono quasi tutti russofoni e filo russi e vorrebbero stare con la federazione russa con la russia sulla base del grande principio della autodeterminazione dei popoli e io serafino massoni vado dicendo queste cose da lontano anno 2014 eppure sinora nessuno mi ha minacciato di morte che all'ucraina avrò dedicato due o trecento video anche questo è un nuovo video sull'ucraina è un nuovo video che mi vede molto vicino alle posizioni del fisico carlo rovelli del professor alessandro orsini ma anche di tanti 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 altri va bene ecco allora se se qualcuno ha minacciato di morte il fisico carlo rovelli per le sue posizioni sull'ucraina e io serafino massoni dovrei dovrei evidenziare che venirebbe concentrare l'attenzione anche sullo stato di israele anche sullo stato di israele perché eccolo qua lo stato di israele la stella di david questo è lo stato di israele è perché lo stato di israele non ha mai mandato non manda e mai manderà armi all'ucraina lo stato di israele non ha mai mandato non manda e mai manderà armi all'ucraina ci sarà un motivo se lo stato di israele che che lo stato ebraico è solto nel 1948 dopo la shoah perché lo stato di israele è solto tre anni dopo la shoah e dire shoah vuol dire sei milioni di ebrei europei portati nei lager poi nelle camere a gas quindi nei forni crematori ci sarà un motivo se lo stato di israele che è solto tre anni dopo la shoah ci sarà un motivo sullo stato di israele non ha mai mandato non manda e mai manderà armi all'ucraina che vuol dire che lo stato di israele non ha mai mandato non manda mai manderà armi all'ucraina e si dice e chi taccia consente e vuol dire che lo stato di israele implicitamente è d'accordo con l'operazione speciale di Vladimir Putin della federazione russa perché si dice che in ucraina ci sia tanto antisemitismo anti giudaismo e ci sia diciamo così una certa venerazione per la croce uncinata e dire cruce uncinata vuol dire vuol dire shoah e dire shoah vuol dire sei milioni di ebrei europei portati nei lager poi nelle camere a gas e poi nei forni crematori allora uno uno non si deve limitare a minacciare le morte Carlo Rovelli e si dovrebbe minacciare le morte allora che lo stato di israele che benché sia uno stretto alleato degli stati uniti d'america e lo stato di israele non ha mai mandato non manda mai manderà armi all'ucraina e poi si dovrebbe minacciare le morte pure serafino massoni anche serafino massoni eccolo qua serafino massoni eccolo qua eccolo qua eccolo qua nessuno mi ha minacciato le morte mi dispiace minacciate le morte anche serafino massoni non se ne parla più ok cari amici andiamo su non so se mi so spiegato è caso mai non mi fossi spiegato fatemelo sapere che cercherò di spiegarmi meglio a tutti voi tanti cari saluti da queste due opere una è la del serpente che l'opera principale del serafino massoni e quest'altro è la cometa dell'imperatore un romanzo storico che sta in tutte le librerie italiane ok cari amici ok 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 ok